Questa è 2,7 kg Quanta? 2,7 kg Non mangiare meno 8,5 kg Non è mai arrivato Una volta è arrivato questo 2,5 kg Qua adesso ultimamente mangia 8 giorni Mio non mangiava 8 giorni 1,2,6 A volte in ogni giorno lo mangia e poi lo mangia solo 5 Poi andiamo a trovare noi Poi puoi già premiare Però non c'è più niente Mangano le 5 Poi non muovendosi questi cani Sì, poi in campo le gioca Sì, ma non fanno le 5 No, non gioco No, abbiamo un bigor C'è per camminare tanto No, perché qui in inverno Questa parte esce Questa parte esce Questa parte esce Questa parte esce L'arga là Questa è una parte Questa parte esce Grazie. Grazie. Grazie.